PENSI A CASA TUA Diamo la pace Ferite di arma da fuoco Indra Eda Delle bende, presto Vattene, sei una di loro Che cosa è successo qui? Ci hanno attaccati mentre dormivamo La nostra pattuglia era a nord cercando gli Azgheda La fanteria non riusciva ad avvicinarsi Il summit è stato due giorni fa Perché Cain l'ha fatto? Non è stato lui Come ti sei salvata? Bellamy Bellamy era con loro? Questa è la loro terra adesso Manda i cavalieri Chiamo a raccolta le armate dei dodici clan Ci basterà un solo giorno per annientare Arcadia E tutti quelli entro alle sue mura Sì, Eda Giusella Aspetta Dammi il tempo per rimediare Arema Che cosa fai? Non posso lasciarti andare Quindi sono prigioniera adesso, è così? Sì Lexa Lasciami andare ad Arcadia No Almeno fammi parlare con Cain Possiamo portarlo qui Indra Al summit Cain mi ha detto di averti dato una radio Un modo per contattarlo Fallo Ti prego